Retro Dylan numero 66, partita con la morte Wabalabadabdabe bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica Retro Dylan, rubrica mensile che però il mese scorso è stata volutamente saltata perché è uno di quei mesi in cui una convergenza astrale fa in modo che in edicola escano sia il Color Fest, sia l'Old Boy, sia la serie regolare e poi c'è stata anche una ristampa di un Retro Dylan tra l'altro che però era Golconda e ne avevo già parlato con voi di conseguenza ho preferito non aggiungere anche il Retro Dylan anche perché sono comunque tutti i numeri che io dovrei leggere e francamente leggere quattro Dylan in un mese di cui uno che conoscevo già non mi andava interrompiamo anche per questo mese la mia nuova tradizione di leggere dei Dylan vecchi che non ho letto perché questo mese è molto importante parlare di partita con la morte perché l'ultima uscita della serie regolare di Dylan Dogg è proprio una citazione, un omaggio, un richiamo, un reboot, un remake, chiamatelo come volete di partita con la morte, ovvero la morte in palio prima di cominciare se ancora non l'avete fatto vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o non mi piace questo video anche a tutti gli altri che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che sanno giocare a scacchia di commentare qui sotto con quello che viene parso di questo numero della morte in palio se preferite uno, se preferite l'altro anche in base al tempo in cui sono usciti e insomma scrivetemi qua sotto un po' il vostro parere vi ricordo anche di seguirmi su Instagram e su Twitch perché comunque su Instagram vi faccio sapere quello che faccio fuori da YouTube e quindi su Twitch non mi dispiacerebbe fare una classifica, una top 10 di Dylan Dogg in una diretta Twitch ma devo preparare, è un lavoraccio da fare, voglio preparare bene le copertine e mostrarle in live per chi non lo sapesse partita con la morte è un numero scritto da Tiziano Sclavi e disegnato da Corrado Roy lo stesso che ci ha accompagnato parecchio nel ciclo 666 e in tantissimi fantastici numeri di Dylan Dogg mentre la morte in palio è stato scritto dalla coppia Porretto e Mericone e i disegni sono di Armitano poi ecco se volete andare nel dettaglio di quella recensione vi metto qua nelle schede, qua in descrizione il link così vi guardate anche quella descrizione, non voglio addentrarmi troppo però voglio giusto darvi qualche differenza, cioè un chiaro omaggio sia nella copertina sia nel contenuto per chi non lo sapesse partita con la morte fondamentalmente parla di questo personaggio che si trova in bilico tra la vita e la morte, si trova in coma quindi sta per morire e gioca una partita a scacchi con la morte propone lui stesso alla morte, la personificazione della morte che comunque nell'immaginario di Dylan Dogg è un personaggio comune come Gesù in South Park e propone una partita conoscendo alcune leggi occulte per le quali se giochi a scacchi con la morte e la batti riesci a rimanere in vita ovviamente la morte, tutti i pezzi degli scacchi esclusi le pedine tutti i pezzi degli scacchi che ti prende la morte corrispondono alle vite delle persone care che tu dovrai scegliere di sacrificare ovviamente succederà quello che potete pensare la morte inizierà a mangiare alcuni pezzi degli scacchi e alcuni amici di questo personaggio verranno a morire in maniere molto atroci molto splatter tipiche dei primi numeri 100 dei Dylan Dogg Dylan è stato assunto dalla figlia di uno delle vittime proprio per indagare su queste strane morti misteriose il padre di questa ragazza per esempio è stato mangiato dallo scheletro di un dinosauro in un museo tipo una notte al museo per intendersi e poi ci sono altre morti misteriose la coppia composta dal migliore amico di questo personaggio che sta giocando a scacchi con la morte e la moglie stanno facendo le corna e le facevano anche quando il marito era in vita a questo personaggio e vengono ammazzati entrambi il miglior amico da un'armatura che prende vita e la moglie dal riflesso di morte del miglior amico del protagonista così si cita anche il numero riflessi di morte e attraverso lo specchio quindi c'è questa soft continuity in Dylan Dogg che è una fantastica asterizzata d'occhio ai fan di vecchia data un numero decisamente più lineare rispetto a un numero moderno ma ci sta anche perché parliamo dei primi numeri io amo, preferisco questa narrazione molto lineare e anche una narrazione che devo dire non fa partire subito Dylan Dogg nel suo studio che incontra il caso ma c'è questa piccola premessa dove il nostro protagonista propone appunto questa partita a scacchi e solo dopo il primo omicidio da parte della morte vediamo Dylan che viene ingaggiato da questa ragazza come sapete a me piace quando Dylan viene ingaggiato in un caso e non si trova lì senza motivo ed è testimone inutile degli eventi qua è proprio un caso che gli è stato affidato e cerca di risolverlo devo dire anche abbastanza bene una presenza dell'ispettore block dosata ma fondamentale per dare delle giuste dritte e anche una presenza di graucio non male nel senso che non è un graucio che io preferisco quando fa battute ai giochi di parole a caso però considerando che è uno dei vecchi numeri non c'era molto di meglio quindi va benissimo anche così la presenza di graucio un Dylan che si trova anche di fronte a una scelta quella di porre fine a una vita una scelta non di poco conto ma che lo porterà appunto a effettuare questa decisione quando si rende conto che in un certo senso il mandante di tutti questi omicidi è proprio la persona che sta giocando a scacchi con la morte quello che io non ricordavo quando ho letto la morte in paglio è che anche in partita con la morte questa persona inganna la morte questa persona usa questo sotterfugio della partita a scacchi praticamente per vendicarsi di tutte queste persone il suo collega il padre della ragazza che ha ingaggiato Dylan era un collega di lavoro che rubava dei soldi all'azienda la moglie lo tradiva col suo migliore amico è anche morta per caso la segretaria diciamo che la segretaria era al corrente della relazione extraconiugale della moglie e Dulcis in fondo muore la ragazza che ha ingaggiato Dylan ragazza che è la bella del mese perché ovviamente sono gli anni 90 quindi per vendere un fumetto e dichiararlo un fumetto da adulti ci deve essere almeno una scopata qua ce ne sono due una è con Dylan e due sono i tizi del pronto soccorso nota polemica ma perché è così nel senso poi se volete un giorno approfondiremo in live questa mia idea purtroppo anche la ragazza viene uccisa perché? perché la ragazza aveva anche lei una relazione extraconiugale con il protagonista con il... diciamo con questa persona la morte si trova a dover fare anche la parte della moralista in un certo senso quando dice ma come quando viene svelato il piano di inganno alla morte la morte dice come tu hai sacrificato tua moglie il tuo miglior amico perché ti tradivano e anche tu hai una relazione extraconiugale sei il solito il solito borghesuccio ipocrita ecco questa questa frase mi è piaciuta tantissimo molto sclaviana di come condanna i mostri della società moderna cioè gli ipocriti quelli che puntano il dito verso gli altri ma probabilmente fanno gli stessi peccatucci gli stessi reatucci oppure anche di peggiori è anche bello come sia la morte a dire a questa persona che non è capace di amare come se la morte in un certo senso fosse più umana dell'umano stesso dell'essere umano stesso lo vediamo anche nella scena quando per evitare che Dylan segua la pista delle morti sospette ridà un pochino la vita della segretaria che era morta in circostanze casuali ma vediamo appunto la segretaria che esce dalla vasca ferita ancora con con questo piccolo problema alla testa e cerca aiuto e viene totalmente ignorata se non scansata dalle persone di Londra e muore per strada in modo molto molto umiliante molto privo di dignità e vediamo che in quel momento la morte dice vabbè lasciamo perdere lasciamo che è tutto come prima riporta il corpo della segretaria nella doccia dove era morta inizialmente quindi vediamo una sorta di pietà da parte della morte che lo stesso protagonista con cui sta giocando non ha è privo di questa empatia finale molto molto carino molto anni 90 mi è piaciuto un sacco anni 90 inteso come il Dylan Dog degli anni 90 quindi questo mistero finale dove Dylan Dog e la morte insieme capiscono l'inganno della Cadrega e entrambi decidono di porre fine alla lista di queste morti Dylan vuole porre fine praticamente togliendo dal coma questa persona quindi staccando tutte le macchine in modo che il corpo muoia definitivamente e lui non possa più non possa più giocare una partita perché se non c'è più la possibilità di tornare indietro chiaramente viene anche meno la possibilità di giocare e allo stesso tempo la morte vuole punire questo inganno riportando in vita questa persona perché riportandola in vita resterebbe vivo ma privo di tutte le persone che lui ha ucciso e questa persona prima di di venire accoltellata su sua stessa mano quindi è stato lui il mandante di questo di questo di questa aggressione voleva suicidarsi quindi in un certo senso far tornare alla vita una persona così vile che voleva suicidarsi che ora sarebbe solo è un po' una punizione peggiore della morte peccato che proprio quando la morte fa tornare in vita questa persona Dylan stacca le macchine e questa persona si ritrova in un limbo totalmente bianco facendoci capire che esistono anche destini peggiori appunto della morte numero fantastico perfetto soave è uno di quei numeri che io davvero vorrei vedere trasposti in una serie tv di Dylan Dog sappiamo tutti che dal 2019 si parla di questa serie non credo l'abbiano ancora scritta la produrrà James Wan che ha fatto se non sbaglio The Conjuring di recente e mi piacerebbe fare un toto puntate di un'ipotetica serie di Dylan Dog ovviamente io vorrei un filo di continuity vorrei dei personaggi che potessero tornare in un'ipotetica seconda stagione però vorrei anche una trama abbastanza verticale e sicuramente una delle puntate che vorrei vedere maggiormente è partita con la morte davvero un numero tra i miei preferiti io non ho un numero preferito ma sicuramente partita con la morte è tra i migliori che io abbia mai letto fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero come sempre io con l'inchino e con l'imbuto vi saluto vi dico arrivederci al prossimo video arrivederci al prossimo video su Dylan arrivederci al prossimo retro Dylan nel caso mi seguiate solo per il retro Dylan io come sempre vi invito ad aprire la descrizione e i commenti e commentare con quello che viene parso arrivederci ancora e alla prossima grazie a tutti Grazie a tutti